Bella a tutti ragazzi, bentornati al vostro zio Peppo, oggi siamo su FIFA Ultimate Team Beh, questa è la mia rosa, una serie abbastanza buggata con Palacio e Dumbia in attacco, Gervinio, Salah, Calekon, Nengolan, tutti là Ora faremo... continueremo il road to the 21 che ho intrapreso molto, 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 molto molto tempo fa e sono nella... non so in che divisione sto, devo vedere sono in terza divisione e questa è in poche parole la prima partita della terza divisione quindi con voi porterò queste tre divisioni o perlomeno spero le ultime tre divisioni perché sicuramente ne saranno mille di divisioni perché retrocederemo sempre Comunque andiamo subito alla ricerca dell'avversario, subito l'abbiamo trovato La valutazione è 83, intesa 100, allenatore Wenger anche lui una serie abbastanza buggata, molto simile alla mia però la differenza è che lui c'ha Chiellini, Tevez, Pogba e Vidal e io c'ho Palacio, Nengolan, Calekon e Castan Vabbè dai stiamo là Comunque ce la giochiamo... ce la giochiamo alla pari Poi si sa il pallone rotone Eccoci qua Prima partita con voi Battono l'oro Vinciamo noi È il detto della giornata Grazie, gentilissimo Molto, molto gentile da parte tua No? Mamma mia Santo Con una statua In mezzo a Milano Anche se non abita a Milano È partito la freccia rossa Cioè che è rossa proprio non è Però Gervinio, la freccia nera Gervinio Se ne va in velocità Non lo ferma più nessuno La finta E lo ferma invece Marti in casa Ma lui ne occupa la palla Mette in mezzo Tombià Uh La sforbi rovesciata Tachiana Golano Il ninja Uno, due, carro e tricopala Ma che cazzo la passi? Ignorante Nengolati Oh Ma tu devi essere espulso per la vita Per tutta la vita E gli dai solo l'ammunizione? Arbitro di merda Tira a Gallecon È quello con i piedi più buoni che ho Quindi Ci prova Io se Maria Callecon La vedo buona Il lag mi ha fatto anche attendere Fin troppo Stavo avendo un ictus Rodrigo Palacio Rodrigo Palacio 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 Il gol Di Rodrigo Palacio E mi arriva anche il messaggio su colzaro Ma non ce ne prega niente O che è zero Rodrigo Palacio Che pena Sempre lui La mette dietro Ragazzi mi raccomando Non sono io che Non ho il mio computer Che il lag Ma sono i vostri occhi Che non hanno una buona scheda grafica E quindi Non è colpa mia È colpa vostra Come sempre E dai Dumbia Svegliati un po' Svegliati un po' Ho dito un calcio in testa Ma io sei Maria Mamma mia Quale con Ma la Dumbia Tira Dumbia E il tiro di Dumbia Sei Dumbia L'uomo Dato con l'istagione L'uomo Che la Roma Credeva di aver fatto Tutto suo E credeva di affare Noi domani dai Non pensate a quello che sto dicendo Pensate a quello che ho fatto Dove vai scemo Vai a giocare a ping pong Perché Rodrigo Palazzo Provano altro di no Cosa Cosa state facendo Mamma mia Due di voi Una banda di ignoranti Porco porco schifo Porco porco schifo Porco 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 schifo È buona Vai sei tutto un bianco 45esimo si segna sempre Ma tu non segni Sei antiscript Maledetto Dumbia Però 2-0 Eeeh Ma proprio non la vuoi finire Cioè proprio il nervosismo Ti sta salendo perché Non stai capendo niente Dai Arturo Ti è stato pure arrestato Basta ora E quando lo prendi a questo Quando Che È più veloce Che è più veloce di una Ferrari Questo si parla Stai gira solo Mamma mia Tutti uno Due E manda Mohamed Salah Mohamed Kebab Salah Mohamed Kebab Salah Prova il sinistro Mohamed Kebab Salah Orecchia Orecchia e sventola Si gioca vicino E poi si mette in mezzo Lo schema Uh Stava funzionando Lo schema Bravo Manda Dumbia Manda Dumbia Oddio Ma pesa Ma È un motorino È l'uomo più veloce sulla terra È sceso Tra di noi Si dà ma se tu non vi ha O se volete Flash Flash Non vi ha Ma che passaggio da bambino Che non sa giocare a pallone Ma da questo Oddio stava sbagliando Stava sbagliando Ma non è giusto giocare con Messi Non vale Stiamo giocando con le Serie A E si gioca con i giocatori della Serie A Non vale mettere Messi È scorretto No però È più veloce di Messi Non fare fallo Maledetto Ora ci recupero Purtroppo anche loro Dumbia Dai Non ci dobbiamo demoralizzare Perché anche noi abbiamo Dumbia Abbiamo pure Palacio Però lui ci ha messo Mamma mia di sarà Palacio Dumbia E ho fatto pure Rai di mano Stacca Butta sta pallone Butta sta pallone Proprio Fuori stadio Fuori campo Deve fare Stile golf Perché ovviamente con i golf Si va fuori campo Bravo Dio tempo Bravo Eccolo Mette in mezzo Il colpo di testa Ma perché Gervinio No? 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 3-3 ma perché non ho detto questo giallo io dovevo avere Dumbia fai Dumbia fammi sognare Dumbia tira ma no maledetto ma no ma no maledetto maledetto infame se stavi contro i miei segnali si è venduto la partita sto bastardi non mi ha detto Dumbia non mi ha detto Dumbia non mi ha detto Dumbia non mi ha detto la fa culo dai stavo vincendo ragazzi questo nuovo video si può concludere qui purtroppo stavamo vincendo 3-0 e come dei coglioni ci siamo fatti recuperare 3-3 perché ha segnato 3 volte d'unghia comunque questa volta vi porto solo una partita se volete due partite raggiungiamo 20 like per un prossimo episodio di FIFA noi ci vediamo nel prossimo episodio arrivederci